Cittadini di Biasca, salutiamo con fraterno cuore gli ospiti qui convenuti per il quinto convegno cantonale delle società di musica. Avremmo partecipato con entusiasmo alle cerimonie se Giuseppe Motta non fosse stato indicato a presenziarle. Chi, reduci da Roma, in poca chiara alleanza col fascismo italiano e col papa fascista, propugna a Bernardo... Giuseppe Motta è l'avversario più tenace di ogni civile rivendicazione della classe lavoratrice. Egli è strumento di reazione e miseria per noi e per i nostri figlioli. Sono questi i motivi per i quali ci asteniamo dal partecipare a cerimonie presenziate da Giuseppe Motta. Viva la libertà, abbasso la reazione fascista, il Comitato d'Azione Antifascista. Si tratta del famoso libello del 33, comparso più o meno misteriosamente sui muri delle case, un mattino. I Biasca non credono ai sottili distinguo degli storici. Per molti di loro Giuseppe Motta è un fascista e gli dicono che è meglio che rimanga a casa sua. È tanto vero che Giuseppe Motta dovette scendere dal treno in quel di Airol per far sereno ritorno presso la capitale federale. Grazie. Grazie.